Per far accorgere Alba della situazione in cui versava via Spineta erano necessarie numerose denunzie. Tante infatti le segnalazioni arrivate a questa redazione da parte dei battipagliesi, il tutto certificato dalla presenza delle nostre videocamere. Questa mattina, tra l'altro nella prima vera giornata di pioggia da mesi, operai della municipale Alba, assolutamente esenti da colpe, sono al lavoro in via Spineta per tagliare l'alta erba che ormai invadiva la carreggiata. La società a totale controllo comunale, che solo nel mese di luglio ha avuto dal comune oltre 700.000 euro, si è dunque resa conto di una situazione di totale abbandono ed è dunque intervenuta. Diversi servizi giornalistici realizzati da questa emittente, ai quali c'è che ha risposto in maniera molto piccata, difendendo a spada tratta Alba. Con l'intervento odierno si risponde a quella levata di scudi e si consegna la ragione a chi denunciava. L'intera estate che sta per andare l'archivio non ha visto il minimo intervento della municipalizzata e le immagini, giusto ribadirlo affinché nessuna ulteriore accusa venga mossa, sono ben chiare. Da oggi via Spineta però assume un altro aspetto, l'erba è stata tagliata e così anche la vegetazione e si spera che l'immondizia presente da tempo venga tolta. Il canale di scolo della strada, inoltre, è intasato da vegetazione e rifiuti, altro aspetto fino ad ora ignorato da Alba. Da capire se l'intervento di stamane sarà risolutivo anche in tal senso. La zona, a causa del ristagno d'acqua, è soggetta a cattivi odori e all'alta presenza di roditori, alcuni dei quali penosamente morti sulla strada, e insetti, tra cui le fastidiose temute zanzare, potenzialmente portatrici di malattie. Domani è un altro giorno, diceva Rossello Ara, e domani si vedrà il risultato di tale intervento.